Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano, Sesto, Fiorentino e Il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna, rallentamenti anche in Fipilima a causa di lavori tra Ginestra, Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Sempre a causa di lavori rallentamenti anche sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebis-Tiberina si ricorda che a causa di lavori sono chiusi gli svincoli di Val Savignone e San Sepolcro Sud in direzione Ravenna. Viabilità di Firenze a causa di un incidente momentaneamente chiusa via della rivoluzione ungherese con blocco temporaneo della circolazione. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!